Le riserve per il nome del candidato a sindaco per le prossime amministrative non sono ancora sciolte, ma la Lega su una cosa è sicura. Sarà un candidato rappresentativo della società civile e dopo aver strappato al centro-sinistra 6 capoluoghi su 10 in Toscana, governeremo anche Prato. A dirlo è Susanna Ceccardi, commissario regionale della Lega, che oggi ha fatto tappa in città per inaugurare la nuova sede pratese del partito. Prato tornerà al centro-destra, però a Guida Lega, con un'impronta sicuramente maggiormente improntata alla sicurezza, perché una città così bella, con tante potenzialità, negli ultimi anni ha visto un'amministrazione che ha tralasciato totalmente il decoro urbano, ha tralasciato completamente gli interessi dei cittadini italiani. Diremo prima gli italiani anche a Prato. Il candidato sarà sicuramente una persona rappresentativa, stiamo dialogando anche con gli altri partiti di centro-destra, verrà concertato con gli alleati e sarà rappresentativo anche della società civile. Patrizia Ovattoni è una militante da tantissimi anni, conosce bene la Lega, conosce anche bene la città, sarà sicuramente in prima linea. Conto di selezionare tutti i candidati sindaco nei 188 comuni, quindi compreso anche Prato, entro la fine di gennaio. Sicurezza, decoro urbano e massima attenzione agli interessi dei cittadini italiani, sono queste le priorità per la Lega, che ha deciso di lasciare la sede di Mezzana e di tornare in centro storico, in via Cesare Guasti, a due passi dal Palazzo Comunale. Abbiamo deciso di spostarci in centro per essere ancora più radicati sul territorio e perché vogliamo fare un punto di incontro per i tanti cittadini che quotidianamente ci vengano a cercare e quindi ci chiedano aiuto. Insieme a Ceccardi sono arrivati in città anche il referente nazionale per Prato Andrea Recaldin e il sottosegretario degli affari esteri Guglielmo Picchi. E così in una sala gremita di esponenti e simpatizzanti del partito, rappresentanti pratesi del centro-destra e semplici cittadini, la Lega ha voluto marcare il territorio. Io credo che ci sia una grandissima possibilità, una grande possibilità. Bisogna essere solo uniti, determinati e chiari, chiarissimi con i cittadini di quello che vogliamo fare. E noi le idee le abbiamo molto chiare. Che non è accettabile che ci siano dei parcheggiatori abusivi perché io voglio arrivare a Prato a parcheggiare, andare a bere il caffè serenamente senza rischiare di trovare la macchina strisciata. Chi lavora ed opera all'interno del contesto comunale di Prato lo deve fare nel rispetto delle normative di sicurezza della tutela del lavoro che il centro storico ha riqualificato e cioè le infrastrutture per la città di Prato. Ce n'è tanto, tantissimo, non basteranno cinque anni di amministrazione di buon senso. Infatti noi vogliamo vincere e governare per più anni. Infine durante la festa è stato fatto anche un accenno alla polemica sullo spray al peperoncino. Noi abbiamo donato lo spray al peperoncino alle donne che hanno bisogno di difendersi. È chiaro che qualsiasi cosa può essere utilizzata anche come arma di offesa, però se le donne hanno anche la capacità di difendersi e non subire e essere soltanto vittime, noi lo preferiamo. Quindi rivendichiamo la scelta di aver donato lo spray al peperoncino alle donne per difesa, per legittima difesa.